Prosegue non senza difficoltà la missione del nuovo drone esplorativo che naviga fra le acque radioattive del terzo reattore a Fukushima a Giappone. Il piccolo robot chiamato Pesce Luna ha già colto diverse foto, ma i dati sulla quantità di combustibile radioattivo esistente all'interno del reattore restano ignoti. Il robot alle dimensioni di una pagnotte, dotato di luci, manovra con eliche di coda, raccoglie dati utilizzando due telecamere e un dosimetro. Sta operando dal 19 luglio. La centrale nucleare di Fukushima esplosa in seguito allo tsunami del 2011 non può essere smantellata affinché tutto il combustibile nucleare non sia stato rimosso in modo sicuro, un processo che potrebbe richiedere altri 40 anni. A causa dell'elevata radioattività le ultime sonde hanno avuto vita breve, poche ore, prima che i componenti interni venissero distrutti.